Ad un appassionato di calcio come Max Colacci non si può non fare un'intervista nello stadio dell'Atletico Mineiro. Max, che emozione è? Bellissimo, bellissimo. Questo è lo stadio di Ronaldinho. Io sono un grandissimo appassionato di calcio. Lui è stato sempre uno dei miei giocatori preferiti. Bellissimo. Era già capitato un'altra occasione di poter vivere lo stadio proprio da dentro. Poi anni fa doveva partire la nazionale a Lecce. Questo è un po' più grande. Bellissimo, bellissimo. Una prima giornata utile per acclimatarsi a Brasile e anche per distogliere la mente dai pensieri del Mondiale. Ci sarà tempo per pensarsi. Sì, da domani. Domani mattina si penserà solo ed esclusivamente al Mondiale. Oggi credo che sia l'unica giornata di relax. Siamo un po' abituando al fuso orario. Niente, come dicevo prima, da domani poi si penserà solo ed esclusivamente a noi e al Mondiale. È il tuo quarto Mondiale. Che emozione è? Soprattutto perché è diversa da quella di Do. Insomma, è un clima nuovo, un ambiente nuovo. Sì, sì. Insomma, io sono già il quarto anno e mi ritengo fortunatissimo perché c'è chi in una carriera intera non ha la possibilità di partecipare. Insomma, io sono già al quarto è bellissimo. Insomma, non siamo più a Do. Un po', sinceramente, mi manca anche perché Do ha portato molto bene, direi. Pronto per questa nuova sfida. Poi, insomma, avrò la possibilità quest'anno di giocare questo Mondiale da titolare. Quindi sono pronto e carico per questa nuova avventura. Grazie. 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 Grazie.